Siamo direi più main sponsor della squadra e questo ritengo che sia un pregio della squadra per il gruppo Atlantide in quanto dà maggiore sicurezza per tutti quanti. Sappiamo che lo sport richiede sempre di più e più si va in alto, più si pongono gli obiettivi alti e per fortuna purtroppo ovviamente c'è bisogno sempre di linfa nuova. Quindi benvenga, un grande benvenuto ai nuovi sponsor che si accolgono a braccia aperte.